Sono 20 tra sindaci, commissari prefettizi e pubblici funzionari le persone accusate di epidemia colposa e abuso d'ufficio per aver consentito la permanenza di cumuli di rifiuti in strada nel corso della drammatica emergenza del 2008. Tra coloro per cui è stato richiesto rinviaggio a giudizio ci sono l'ex prefetto di Napoli, Alessandro Panza, già commissario straordinario per l'emergenza di rifiuti, l'ex governatore della campagna Antonio Bastolino e l'attuale sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino. Gli indagati, la cui posizione è stata stralciata, sono quelli che hanno dimostrato di aver preso provvedimenti come lo spargimento di calcio, la creazione di appositi, siti di stoccaggio, per evitare che la presenza di rifiuti in strada causasse malattie ai cittadini. L'udienza preliminare per i 20 di cui la procura ha chiesto il giudizio si svolgerà davanti al gruppo Raffaele Piccirillo. Sull'argomento si espressa il sindaco di Napoli che ha manifestato perplessità ma soprattutto serenità. Mi sembra sano parlare di epidemia, dice la Iervolino perché ci sono le dichiarazioni del ministro della Sanità degli enti preposti come l'ASL che affermano non esserci stata epidemia.